Benvenute, benvenuti a tutte e tutti alla presentazione di Quando qui sarà tornato il mare, romanzo di Moira D'Alzito. Eccolo qui. Un romanzo nato dal lavoro di Vuming Uno con la biblioteca comunale di Ostellato nell'ambito di un progetto di scrittura collettiva durato dal 2018 fino al 2019 e diventato adesso nel 2020 un libro, questo libro. Quando qui sarà tornato il mare è un libro molto particolare, non solo perché è un libro collettivo ma perché è un libro che si occupa di un tema importante come quello del disastro ambientale da una prospettiva molto particolare che è quella del basso ferrarese che gli autori, anzi le autrici che sono qui con noi stasera, Patrizia Lucchini, Susanna Pucci e Manuela Bighi che fanno parte appunto del collettivo, questo basso ferrarese che si sono immaginati coperto dall'acqua. Quindi quando qui sarà tornato il mare fa riferimento proprio a un fenomeno reale che si sta già verificando, come dice Vuming Uno nella corposa introduzione al libro. Quindi abbiamo definito questo libro che potrebbe essere, che potrebbe rientrare nei canoni della fantascienza ma in realtà non ci rientra perché non è un libro distopico, è un libro realistico perché questo fenomeno sta già accadendo e quindi è un libro che si immagina il mondo dopo la catastrofe ambientale e appunto vi ambienta varie storie. Io vorrei partire subito con Patrizia Lucchini, vorrei chiederle subito di raccontarci com'è nato questo progetto, com'è nato questo libro e da chi ha preso le mosse e come si è un po' sviluppato il discorso. Sì, intanto buonasera a tutti, sono molto lieta, sono felice insieme alle amiche di presentare questo lavoro che è veramente frutto di un grosso lavoro alle spalle. Ecco sì, diceva bene Gaia delle edizioni Allegre che è iniziato nel gennaio 2018 grazie all'impegno congiunto di Vuming Uno e della biblioteca di Ostellato di Marina Zappi che ha sempre creduto nella scrittura creativa ma che in questo caso ha fatto un passo ulteriore perché non si è trattato, come spiega bene anche Vuming nella prefazione, nella presentazione di un corso di scrittura, bensì di un vero e proprio laboratorio collettivo che ha sempre mantenuto la caratteristica della collettività, del lavorare assieme. Per cui c'era un punto fermo in questo laboratorio ed era la volontà di lavorare sul tema della, l'ha detto bene Gaia, della catastrofe ambientale, del cambiamento climatico. Prefigurando uno scenario che tutti insieme abbiamo, come dire, nelle nostre varie narrazioni immaginato ma con le caratteristiche della realtà perché è vero, è distopico perché di distopia si tratta ma non è fantascientifico in senso estremo. Non si può parlare di fantascienza, bensì di una prefigurazione di uno scenario futuro che purtroppo sappiamo già che potrà verificarsi proprio in questo modo come noi l'abbiamo descritto. Per cui la cosa immediatamente successiva alla presentazione di Wuming che ci ha proprio introdotto alla tematica che si sarebbe dovuta sviluppare nel laboratorio, questa del cambiamento ambientale, ci siamo costituiti in gruppi. E sono stati cinque gruppi che hanno lavorato sempre sia in forma autonoma che poi trovandosi come collettivo. Ecco non so se vogliamo parlare un po' anche della divisione in gruppi, di come i gruppi si sono costituiti e hanno lavorato, non lo so, ecco per noi è stato un'esperienza fascinante. No, devo dire che da lettore la divisione in gruppi non si coglie, non si coglie. Il libro è diviso in vari atti, quindi il libro ha una progressione quasi teatrale. Sì, un po' sì. Questa divisione in atti quasi teatrale che rispecchia in parte, dicevi tu Patrizia, questa divisione in gruppi del laboratorio, quindi la natura laboratoriale. Ecco Susanna, raccontaci un po', com'è stato il lavoro della divisione in gruppi, com'è stato questo percorso di scrittura collettiva, che stimoli vi ha dato, che difficoltà avete incontrato rispetto a un percorso di invece scrittura individuale? Susanna purtroppo non ci sente. Emanuela, vuoi dirci qualcosa tu rispetto alla divisione in gruppi, agli stimoli della scrittura collettiva? Allora, io credo che questa idea della suddivisione in piccoli gruppi, di questo grosso gruppo, perché siamo partiti in venti, è stata decisa, proposta da Vuming Uno e credo che sia stata fondamentale per cominciare a lavorare, perché un gruppo così grosso che non avesse un ordine per iniziare il lavoro, rischiava poi di disperdersi. Quindi lui ci ha proposto cinque temi, in realtà, lui non ha detto dividetevi, ha proposto cinque temi e ha chiesto a ciascuno di noi di scegliere quello che ci sembrava più interessante. Poi molti di noi in realtà si sono anche aggregati in base al fatto che si conoscevano prima, che avevano già lavorato insieme, perché molti di noi avevano già avuto esperienza di laboratori di scrittura, sia presso la biblioteca di Ostellato, allora comunale, ora non più, che presso in altre situazioni. Quindi lui ci aveva dato queste tracce e i gruppi sono diventati cinque, alcuni composti da tre persone e alcuni da cinque, quindi tre, quattro o cinque. All'interno di ogni gruppo poi ci si è dati inizialmente un metodo di lavoro autonomo, ecco, c'è chi ha preferito condividere fin dall'inizio tutta la traccia del racconto e quindi poi suddividersi solo le parti da scrivere, c'è chi invece è partito scrivendo in autonomia ognuno dei componenti un racconto e ha proceduto poi successivamente al lavoro di cucitura. Alla fine comunque sono usciti questi cinque racconti più uno, diciamo, un racconto per ogni sottogruppo, più uno che negli incontri che facevamo tutti quanti insieme avevamo individuato già fin dall'inizio come un'introduzione, perché è l'unico racconto che parte dall'epoca contemporanea e poi si sposta verso il futuro, mentre tutti gli altri partono già da questo futuro, diciamo, a partire dal 2075 fino più o meno al 2088 sarebbe il periodo in cui si collocano queste storie. Sì, infatti c'è questo modo, appunto come diceva prima Patrizia, questa visione di un futuro che è distopico ma non è fantascientifico perché la distopia in realtà è quella che già abitiamo adesso e appunto lo dice anche nell'introduzione Vuming che appunto quell'urgenza in questo momento del disastro ambientale pone anche delle questioni fondamentali alla letteratura, che è necessario che torni ad occuparsi di questi temi per fuggire, lo dice anche in un'intervista recente al Fatto Quotidiano, da un realismo borghese che poi di fatto è fuori tempo massimo, nel senso che non è più in grado di fare i conti con una realtà che supera ormai ogni immaginazione come quella che stiamo vivendo adesso, non solo in tempi di pandemia ma già prima della pandemia in tempi di disastro ambientale, per cui è interessante vorrei chiedervi se siete come gruppo che appunto adesso al di là della divisione dei sottogruppi, di come avete lavorato, mi piacerebbe poter capire anche un po' che tipo di composizione aveva, che professionalità, che personalità aveva diciamo al suo interno, di chi è fatto questo collettivo Moira dal sito poi, è la prima volta che vediamo. Sì, guarda, è stato anche un bel viaggio, una bella avventura, nel senso che ha ragione Emanuela, certi gruppi si sono costituiti sulla base di conoscenze precedenti, ma certi altri gruppi sono nati proprio lì, sono nati in questo… non vedo più niente… Sì, sì, stiamo mostrando la copertina… Va bene, è nato proprio… molti gruppi sono nati proprio in quel momento, per esempio il gruppo di cui facevo parte io è nato… diciamo era composto da, oltre che da me, che ero veramente la decana del gruppo, anagraficamente lontanissima dagli altri, più un'amica, Gigliola, è proprio diventato un'amica, e due ragazzi giovani, giovani giovani facevano in quel periodo il volontario del servizio civile, e questo ha fatto di questo gruppo un'esperienza incredibile, perché abbia messo insieme le nostre nature diversissime. Il racconto che è scaturito dal nostro gruppo, lo posso dire, è La fiaba di Miriam, poi parleremo anche degli altri eventualmente, è frutto di accenti diversissimi, ma direi moltissimo della fantasia sfrenata dei due ragazzi. Noi ci trovavamo alla sera davanti a delle pisse, pissette, e ridendo come i passi, mettevamo insieme gli episodi di questa storia che cambiava ogni volta, e quando la mandavamo, come succedeva, tutti lo facevano al nostro coordinatore, a Vuming 1, poi dopo lui ci diceva ma voi siete pazzeschi, state prefigurando un racconto pieno di personaggi assoluti, sembra di essere in una fiaba tra l'horror, il fantasy e il fantascientifico, pur immaginando un futuro così terribile, però in realtà ci siamo anche divertiti, ci sentivamo quasi in colpa a divertirci di fronte a delle tragedie del genere. Però la vicenda che è Nesca Turit è dell'ultimo racconto, non a caso perché è quello più lontano da noi nel tempo, succedono cose da matti, però incredibilmente è anche forse il racconto dove c'è più speranza, perché questi ragazzi giovani hanno inserito degli elementi proprio di fantasia anche proiettata verso il lieto fine, e questo è anche un po' concordato, ce lo siamo voluti immaginare a tutti i costi. Gli altri racconti, e poi magari Emanuela può parlare anche di quello del suo gruppo e anche di altri gruppi, hanno accenti estremamente diversi, alcuni sono realistici, quasi tutti però hanno un elemento un po' fantastico, anche perché ci piaceva immaginare nel futuro qualcosa di strano e di diverso dal mondo di oggi. Spesso agiscono in queste storie degli spiriti, dei fantasmi, delle voci che vengono fuori così improvvisamente, misteriosamente, perché era bello anche immaginare dei racconti che non fossero pesantemente realistici e quindi anche dove c'è molto realismo, in moltissimi, in quasi tutti c'è dell'azione, quindi movimento, azione, in altri c'è riflessione, pensiero, descrizione, però ecco, pur con accenti diversi, hanno tutti questo elemento distopico, prefigurazione di un futuro in cui il basso ferrarese è allagato, il mare si è ripreso, infatti lo dice anche il titolo, il mare si è ripreso il suo spazio e ciò che è rimasto è una civiltà strana, che guarda caso quasi tutti abbiamo immaginato particolare, queste zone sono abitate da strane tribù, alla fine qualcosa di comune c'è e chiaramente il coordinatore ha svolto un grande ruolo, ci sono anche elementi diversi, c'è chi ha giocato più come noi l'accento così, ha giocato di più l'aspetto avventuroso, c'è chi ha giocato di più quello drammatico, c'è chi ha invece insistito come nel caso del racconto di Susanna che non vedo più, problemi sono diventati grandi Sì, ora proviamo a farlo rientrare in gioco Si parla di un parto, di come una donna riesce a partorire in una situazione estrema come quella di un territorio allagato Ecco, è tornata Susanna, Susanna ci senti? Ecco, magari puoi dire qualcosa a lei Si parlava del... La vediamo ma non la sentiamo Aspettiamo che ci dia un segnale da questo nuovo collegamento Io vi vedo Anche noi ti vediamo Susanna, ci chiedevamo ma ti interesserebbe parlarci di questo racconto che appunto racconta un'esperienza estrema come quella del parto in un contesto ancora più estremo Sì sì, mi sentite? Sì, vai vai Certo, si parlava di un... che anche nel futuro il mio parto... Allora, io volevo dirvi che il mio parto... No, mi dispiace purtroppo Susanna non riesce a raggiungersi in questa chiacchierata e riproveremo più tardi E quindi una delle cose che mi premeva sottolineare è appunto questa grande eterogeneità della scrittura, dei racconti che però segue un filo conduttore che è appunto questo della catastrofe ambientale e anche un po' il tema del fantastico perché appunto riprendendo sempre le parole di Vuminguno nell'introduzione poi quello che succede è che il mondo si popola di fantasmi e quindi c'è questo elemento fantastico che serve a rendere evidente rendere narrativamente evidente e letterariamente evidente qualcosa che è già sotto i nostri occhi ma che facciamo fatica a riconoscere e interpretare con i vecchi modelli e io volevo chiedere a Emanuela quanto ha pesato la riflessione sul disastro ambientale in senso stretto cioè quindi appunto l'appassionarsi, l'indagare, il leggere rispetto alle previsioni che riguardano il basso ferrerese ma in generale tutto il mondo quanto cioè questo tema è entrato nella scrittura a monte e quanto invece è intervenuto dopo nelle fasi successive sono nate prima le storie, è nata prima la tematica? Allora, credo che tutti noi, chi più chi meno conoscevamo questa problematica però io ad esempio non mi ero mai fermata a riflettere sul fatto che fosse così vicina il pensiero di immaginare proprio la stessa terra sulla quale adesso cammini che tra qualche anno non ci sarà più e sarà ritornato per l'appunto il mare è stato un impatto molto forte e mi ha fatto molto avvicinare di più a questo problema di quanto non lo fossi prima proprio il fatto di immaginare e anche come dire proprio questo pensiero che la terra si riprenderà quello che poi è sempre stato suo perché in realtà tutti questi anni di bonifiche pensate con le migliori intenzioni ovviamente pensando di fare il bene delle popolazioni che vivevano su questi territori alla fine si sono comportati come una specie di di caffettiera sigillata come se sotto tutto avesse continuato a ribollire e piano piano investesse per esplodere e che finirà poi per esplodere sul serio anche tutti questi aspetti fantastici che noi abbiamo introdotto in realtà fanno tutti riferimento a degli spiriti naturali c'è un po' un ritorno arcaico a quei tempi in cui la magia era strettamente legata con la vita quotidiana quindi quasi tutti pur senza nemmeno confrontarci tanto nel gruppo grande però quasi tutti siamo arrivati ad introdurre questo tipo di elemento quindi proprio questa natura che con la sua potenza anche spirituale si riprende un po' il dominio che noi uomini avevamo noi uomini intesi come esseri umani avevamo pensato di poter avere un po' come dire il crollo del positivismo che aveva pensato di poter dominare tutto con la forza del pensiero della tecnologia, della scienza poi in realtà noi raccontiamo che poi invece la natura si è ripresa il suo spazio se posso aggiungere benissimo quello che ha detto Emanuele è proprio preciso ed esatto perché davvero negli incontri collettivi quando ci trovavamo di tanto in tanto per capire l'evoluzione delle nostre storie e metterle a confronto questo elemento del magico, del fantastico è anche di questo ritorno ad una sorta di antica magia legata alle tradizioni, alla spiritualità un po' animistica ce la siamo trovata un po' tutti tant'è vero che quasi casualmente ma poi in realtà la cucitura è stata sapiente e l'ha tutta come dire confezionata per bene il nostro coordinatore ci siamo trovati diversi ad affrontare questo tema narrativo del dialogo degli spiriti della terra e dell'acqua ma è venuta da parte di diversi gruppi tant'è vero che in diversi racconti terra e acqua come spiriti dialogano ci sembra incredibile però questa specie di magia anche tra noi si è realizzata insomma si è avverata e così anche tanti altri rinvii, richiami allora se uno avrà voglia e io vi invito a farlo perché è davvero una lettura appassionante insomma lo dico in maniera un po' partigiana però ci credo confermo confermo troverete dei rinvii e dei richiami che non sono come dire venivano fuori spontaneamente ma poi sono state organizzate nella struttura del libro per cui se da una parte troviamo l'allagamento che ne so di pomposa poi lo ritroviamo anche in un altro racconto in altre forme la civiltà di questi Yoruba immaginari che fondano una città virtuosa in questo disastro e la fondano in un luogo che chiameranno Spina la troviamo anche in un altro racconto come citazione, come richiamo, come rimando e così anche alcuni fantasmi alcuni spiriti che transitano tra le nostre storie e credo questo ci ha fatto molto appassionare ci ha fatto divertire ci ha fatto sentire gruppo anche nel gruppo grande e credo che con questo piccolo, sottile filo che attraversa le varie storie se uno ci sta attento insomma è anche divertente trovarlo non so come dire sì, è molto interessante vedere appunto nell'eterogeneità come ci sia poi un filo conduttore come dicevi tu non solo dei richiami che probabilmente vi sono venuti spontanei ma anche perché un po' rispondono allo spirito dei tempi in questo momento mi viene in mente che il ritorno ha un interesse verso le civiltà prima delle cosiddette civiltà soprattutto dei tempi classici adesso lo vediamo con l'antica Roma per esempio questo ritorno all'interesse per le origini dell'antica Roma prima che diventasse una grande città dove c'è forte questo elemento tribale questo elemento spirituale è un po' una tendenza che si sta dando in generale che probabilmente voi avete tutti quanti colto interpretato bene perché effettivamente ci troviamo un po' a avere a che fare con l'insospettato e quindi sono insospettati anche i luoghi dove andiamo a pescare le soluzioni diciamo così è vero e c'era una vecchia battuta di Guzzanti che diceva che appunto è di fronte alle catastrofi che ci aspettano ricominceremo a imparare a fare le capanne di fango e andare a caccia con arco e frecce e lui la diceva una decina d'anni fa come battuta e adesso noi ci scriviamo i romanzi no, la palafitta lo dice anche Wuming nella presentazione è uno degli elementi che attraversano ma questo proprio non ce lo siamo detto ma perché? perché come puoi immaginare un futuro in un luogo allagato se non attraverso delle costruzioni che ti rendono possibile la vita anche lì allora c'è chi ha immaginato la palafitta chi ha immaginato magari il monticello il piccolo dosso dove si è costruito ma sempre a dei livelli di ritorno al passato sì, c'è questo ritorno ma infatti io mi chiedo nelle varie fonti di ispirazione che voi avete utilizzato Emanuela, Patrizia quanto hanno influito anche le altre grandi narrazioni fantascientifiche che hanno a che fare con l'acqua penso per esempio a una delle più famose che è Waterworld penso al mondo sommerso di Ballard cioè ci sono riferimenti letterari che voi avete preso coscientemente a modello ci sono suggestioni che sono emerse appunto andando avanti nel lavoro ma io credo che molte suggestioni siano quasi inconsce nel senso che nella nostra storia di lettori sicuramente ci sono state delle cose che ci sono rimaste e quando abbiamo dovuto immaginare appunto questo mondo sommerso probabilmente sono uscite tante di queste cose delle quali siamo più o meno consapevoli ecco diciamo che una cosa abbastanza caratteristica è quella di immaginare anche un'umanità che un pochino va degenerando che riscopre l'aspetto peggiore e anche dal punto di vista politico abbiamo immaginato quasi tutti una degenerazione del sistema democratico il fatto che si vengano a creare una società un pochino più elevata che ha privilegi e tutto un resto di popolo abbandonato un po' a se stesso una politica che si è dimenticata un po' del sociale della cultura e questo è un po' comune a quasi tutti i racconti mi piacerebbe dire visto che Susanna non lo può fare che invece il suo racconto forse si distacca un pochino perché i protagonisti di questo racconto che sono appunto questa equip medica che deve far nascere questo bambino in condizioni estreme di uguale agli altri racconti c'è la situazione il paesaggio le condizioni estreme l'impoverimento della popolazione il fatto che deve far partorire questa ragazza in una capanna che ha subito una violenza tutta una storia però in realtà questo forse è l'unico racconto in cui c'è ancora una traccia importante di umanità nel senso proprio buono del termine insomma questa umanità buona che vuole aiutare che vuole andare incontro mentre negli altri racconti prevale un pochino invece questi personaggi un po' cinici un po' che hanno un po' o semplicemente un po' disillusi ecco che pensano che ormai sono successe talmente tante cose talmente brutte che alla fine tutto si confonde non c'è più bene non c'è più male perché l'acqua ha un po' cancellato anche i confini fra questi valori sì anche se posso aggiungere anche Miriam che è la ragazzina del racconto del mio gruppo anche lì diciamo lei si pone questo obiettivo di andare in questi luoghi che non ha mai conosciuto perché vive in montagna ma la sua famiglia d'origine viene da lì e vuole salvare questo posto lo vuole riscattare ed è più come dire è proprio una fiaba nel senso che si muove lungo delle coordinate un po' disneyane abbiamo detto noi no? infatti si intitola la fiaba di Miriam non a caso ecco forse insieme a quella di la storia Chloe la storia di Susanna è quella che porta degli elementi di speranza però anche nella fiaba di Miriam ci sono estreme momenti di violenza estrema cattiverie eccessive come ci sono anche nel racconto nel racconto del gruppo di Manuela tu non ne hai parlato ma lì davvero la cattiveria è estrema anche quella diciamo che ci sono molte avventure ecco ci sono molte avventure abbiamo tutti sentito l'esigenza di caricare questi racconti di una forte componente narrativa proprio azione avventura movimento e credo che abbia fatto piacere a noi farlo ma che renda anche i racconti vivaci e accattivanti almeno insomma noi lo speriamo ecco assolutamente sì beh quello che diceva prima anche Manuela secondo me è una caratteristica importante della fantascienza in generale cioè che non ha tanto una natura predittiva oggi si dice in questo romanzo in quest'altro romanzo in questo racconto l'autore l'autrice ha predetto il futuro in realtà più che predire il futuro la fantascienza quello che fa ovviamente è cerca di interpretare con la lente del genere letterario della narrativa quello che già c'è e quindi quello che descriveva prima Manuela quello che emerge dalle pagine dei vari atti del libro è appunto un tessuto sociale spaldato quello in cui viviamo già adesso infatti avete parlato molto delle somiglianze tra i vari atti tra i vari racconti quali sono secondo voi invece le differenze principali cioè le cose che ciascun gruppo a cui ciascun gruppo invece poi ha dato delle interpretazioni anche molto diverse beh ci sarebbe da parlare a lungo adesso proviamo a fare una sintesi no una sintesi dopo Manuela integrerà ma secondo me ci sono allora intanto l'abbiamo già detta una differenza è il fatto che allora alcuni racconti hanno questo andamento quello del gruppo di cui facevo parte io avventurosissimo e proprio da romanzo all'Harry Potter quasi no? da racconto all'Harry Potter altri hanno un andamento molto realistico quello il secondo quello che racconta un po' questo momento di la brama del mare aperto ti intendi io l'allevamento di anguille all'interno di una situazione completamente ingabbiata da questa diga che in realtà sta portando solo danni questo è realistico ed è realistico in tutto e per tutto è breve a un finale realistico drammatico quello di Manuela adesso può dire lei gli accenti sono anche ancora molto diversi e insomma se vuoi dire qualcosa perché in effetti sono tante le diversità no diciamo che il racconto nostro che è Malacqua intanto fra i vari racconti c'è una sorta di progressione il nostro come anche quello la brama del mare aperto si colloca quando ancora questo fenomeno non è completo ci sono ancora terre emerse i paesi vengono evacuati ma ancora non è proprio completamente sommerso e quindi ancora queste nuove civiltà un po' primitive un po' un po' futuribili ancora non si sono insediate e diciamo che nel nostro racconto va un po' di pari passo la storia proprio del territorio quindi c'è proprio una parte storica che racconta di questo territorio quando era coltivato c'erano aziende agricole fiorenti che poi è andato già dagli inizi degli anni 2000 è andato è stato abbandonato tutti questi terreni sono stati acquistati per altri motivi e non sono più stati coltivati quindi c'è tutta questa storia che poi diventa la storia di una famiglia quindi noi eravamo in tre nel gruppo qualcuno di noi si è occupato di più appunto di questa storia proprio del territorio qualcun altro della storia della famiglia e poi c'è tutta una parte un pochino più di azione un pochino anche più di fantasia diciamo che immagina che appunto in questo territorio oramai abbandonato dagli uomini dove non c'è più nessuna attività normale insomma di quelle che ci sono normalmente incominci a infiltrarsi tutta una serie di personaggi che vanno per vari motivi illeciti e fra questi c'è proprio questo gruppo di esecutori vengono chiamati nel racconto che lavorano appunto per alcune agenzie e vanno alla ricerca di cose preziose o anche di altre cose e quindi hanno un po' un comportamento al di sopra di ogni etica morale sono liberi sono dei killer spietati è la parte che mi è piaciuta di più quella lì sì esatto però lo sono in maniera come dire il periodo storico contempla anche che esistano queste agenzie che forniscono questo tipo di personale per questo tipo di interventi ecco sì e poi un altro bisogna che lo diciamo perché non sono presenti qui e quindi non rappresentiamo tutti i gruppi bisognerà anche dire qualcosa del futuro del passato perché è un racconto a mio avviso bellissimo qui siamo ancora un po' più avanti e questa è veramente la storia come dire che cerca di mettere meglio a fuoco lo scenario più lontano insieme al nostro e lì come dire cerca di far cogliere lo sviluppo di una comunità che vuole essere virtuosa e rifondarsi pur in una situazione degradatissima e c'è chi riesce a coltivare quest'utopia fino alle estreme conseguenze e chi invece se ne distacca e abbandona è veramente un racconto molto complesso e molto bello perché non so come dire riesce a creare un ponte tra il passato e il futuro mettendo in luce come ha fatto anche Malacqua però in un modo ancora diverso due personaggi che vivono questo percorso verso l'utopia in maniera diversa l'uomo in questa coppia lascia abbandona non ci crede va a vivere altrove nel basso ferraresi in questa laguna degradata e devastata la donna persegue un sogno e continua a perseguirlo fino all'ultimo e quindi anche qui c'è una piccola speranza una speranza piccola veramente all'umicino però l'utopia lei continua a coltivarla crede ancora in una comunità che può vivere in maniera alternativa in un territorio dell'elitto come quello del basso ferrarese nel 2080 no ma devo dire che la cosa per chi si è magari aggiunto adesso stiamo presentando appunto quando qui sarà tornato il mare libro collettivo a firma di Moira dal sito e a cura di Vuminguno composto di vari racconti vari atti e devo dire che è un po' una summa a me quello che è sembrato una summa di varie tendenze nella letteratura fantascientifica degli ultimi anni e questo per esempio che descrivevi tu è un genere un nuovo genere che viene definito come appunto la novità del campo fantascientifico non più distopie ma racconti che tentano di la fantascienza solar cosiddetta cioè racconti che tentano di immaginare un futuro positivo e c'è questo grande archetipo della rifondazione del mondo dopo la catastrofe appunto come anche lo stavi descrivendo tu adesso io andrei a chiudere e vi farei un altro paio di domande una che non vi ho fatto all'inizio ma è necessaria e cioè perché Moira dal sito vieni sì allora intanto è un anagramma è l'anagramma di Mario Soldati e Mario Soldati dà il nome alla biblioteca di Ostellato quindi doveroso riconoscimento alla biblioteca anche sotto questa scuola al genius loci come si suol dire il genius loci sì noi siamo grati tutti quanti e dal sito ah no poi Moira in greco è destino fatto cosa c'è di più fatale di tutto quello che mi ha raccontato e poi dal sito Emanuela dal sito noi siamo veniamo da quel sito lì sì la parola sito tra l'altro è una parola singolare perché è una parola antica che nel nostro dialetto tra l'altro ha proprio il significato di luogo è vero che è ritornata invece una parola di grandissimo uso con l'avvento di internet quindi ci piaceva molto sempre questo ritorno al passato che va verso il futuro e diciamo che c'è stato anche un bel dibattito per scegliere il nome del collettivo perché appunto doveva essere un nome che avesse un significato per cui chi ha proposto una cosa chi ne ha proposto un'altra poi sempre sotto il coordinamento prezioso è uscita questa Moira dal sito ha messo d'accordo tutti ha messo d'accordo tutti sì alla fine ha messo d'accordo tutti e l'ultimissima domanda è il vostro impegno a questo punto per la causa ambientale non si limita alla scrittura di questi racconti a questo laboratorio e alla produzione del libro ma andrà avanti giusto? con i proventi del libro stesso i proventi del libro stesso e i diritti diciamo di cui godremo con le vendite e quindi bisogna che tutti comprino il libro andranno ad un'associazione che si occupa di e che si occupi il cui obiettivo si occuparsi di riqualificazione ambientale delle nostre terre quindi ancora non siamo in grado di dirlo in modo preciso lo stiamo studiando però siamo certi di una cosa che i proventi tutto quello che arriverà dalle vendite del libro ovviamente pagate tutte le spese andrà a finanziare a contribuire ad aiutare a sostenere associazioni o gruppi un'associazione o un gruppo che punti proprio in modo concreto in modo realistico e operativo a riqualificare e ricostruire l'ambiente il nostro ambiente insomma che lavori per l'ambiente ci teniamo molto a questo lo vogliamo dire penso che possa essere anche un incentivo all'acquisto quindi c'è anche una buona causa assolutamente assolutamente sì vi invitiamo tutti a comprare questo libro che quando qui sarà tornato il mare di Moira dal sito doppiamente dal sito che nasce nel Basso Ferrarese e torna quindi a questo punto nel Basso Ferrarese con i proventi delle vendite del libro io ringrazio tutte e tutti quelli che ci hanno seguito in questa diretta e speriamo di incontrarci presto in prossime presentazioni online o anche perché no dal vivo dal vivo prossimamente grazie a tutti grazie a voi grazie a Vittorio Allegri grazie a tutti grazie